La rotta del caffè, la Transat, Jacques Vabre, tredicesima edizione di questo che è un vero e proprio Grand Atlantico, come dal nostro titolo, una superclassica della vela oceanica francese, Savassandir, ma naturalmente mondiale, internazionale. Guardate il bacino di Le Havre, questa città del nord della Francia, una città marittima, una città industriale, devota per buona parte dell'anno a iniziative come queste, alla vela oceanica. Ci sono basi di team, basi di bar, avete visto questo enorme bacino, ovviamente attrezzato per le maree che qui hanno cadenze orarie che impattano notevolmente anche di tanti metri sulla giornata, sul scorrere delle giornate. I trimarani, class 40, i moca 60, tutte le quattro classi di cui poi parleremo protagoniste di questa Transat Jacques Vabre. Avete il villaggio lungo le banchine, una città che vive, guardate il pubblico, che vive intensamente le giornate di questa Transat Jacques Vabre. La potremmo paragonare un po' alla barcolana per certi versi, anche se qui ci sono solo 37 barche, 75 velisti. Pensate alla differenza, tutto per l'oceano. Guardate, fuochi artificiali, grande festa, grandi investimenti, ci sono tantissimi sponsor e la vela francese fa veramente invidia sotto questo aspetto perché è davvero qualcosa di irraggiungibile. Ed eccolo qua, il massimo dell'irraggiungibilità. Il premier francese Emmanuel Macron con la signora vestita alla marinara in visita al bacino della Transat Jacques Vabre. Chissà se c'è qualcosa che ricorda un po' i suoi trascorsi a The Rothschild, visto che Edmond The Rothschild è presente in regata con il suo Gitana 17. Ma tutto per cosa? Tutto per questa regata. 4.350 miglia da Le Havre, appunto, lungo tutto l'oceano atlantico, in diagonale, fino a Salvador de Bahia, in Brasile, attraversando l'equatore, il Poto Noir, i Doldrums. Una regata che tecnicamente racchiude davvero tutto. Per quattro classi. La prima è questa, i class 40, 40 piedi, in solitario, in coppia, una classe che sta crescendo molto. Poi i multi 50, i trimarani intermedi, di soli, tra virgolette, 50 piedi, quelli con cui ha corso anche Pedote ultimamente. Questi sono, ormai li conoscete bene, gli Moka 60, le super barche del Van de'Globe, che tra poco arriveranno anche probabilmente al giro del mondo. E questi sono gli ultimi, i super, mega, grandi, trimarani, i mostri che sono arrivati anche a volare. Guardate qua, l'ultimo, proprio Gitana 17, Edmond de Rothschild, che vola sui foil. L'emozione palpabile in banchina il giorno della partenza, i saluti. La super regata, il grande Atlantico, che entra nella città, le barche che escono, cioè questa simbiosi continua, questa partecipazione inevitabile. C'è anche la vicinanza con i personaggi, no? Questo è interessante che manca un po', anche se ci stiamo avvicinando. C'è un tentativo di avvicinarci anche in Italia al fatto di vivere come personaggi i velisti e al vivere le barche come se fossero, in fondo, dei gran premi, delle macchine protagoniste. Però di una grande avventura, l'avventura sull'oceano, perché le emozioni, non dimentichiamolo, che regala la vela. Eccolo qua, il nostro Giancarlo Pedote, uno degli italiani presenti, ci sono anche Andrea Fantini, Alberto Bona, Massimo Iuris e Pietro Luciani. Ma sentir parlare francese così fluente, il nostro Giancarlo Toscanissimo Pedote, con la sua storia, il suo trasferirsi in Francia, ci fa anche piacere. In fondo lui è un emigrato di lusso, è un cervello che è andato a cercare fortuna in quello che è il paradiso della vela oceanica. Qui, insieme a Fabrizio Amedeo, il suo compagno su New Rest, è partito per la sua avventura in Imoca 60. Sottolineiamo questo aspetto e adesso riviviamo, per alcuni minuti, quella che è stata la grande giornata della partenza della Transat Jacques Vabre. Vedete che ci sono due linee di partenza parallele e in asse rispetto al vento. Più in alto avete visto partire i Trimarani, sia gli Ultim più grandi di 30 metri, sia i Multi 50. Più in basso, insieme, partono, proprio lo vedete, gli Imoca 60 e i Class 40. Vedete anche la differenza di velatura. Sodebo, uno degli Ultim, con Thomas Coville, Jean-Luc Nelliat. Pensate che nomi, tutti insieme. Qui ancora la flotta degli Imoca 60 e dei Class 40, dove si vede bene anche le differenze di velocità, oltre che nel modo di affrontare il mare e le onde. 15-18 nodi di vento alla partenza. Ancora tutti gli occhi e le telecamere per Thomas Coville. Tutto quello che ha fatto Thomas è veramente qualcosa di grande. Anche per gli appassionati di vela francesi, che hanno certo palato fino, diciamo così. Ancora un'immagine, adesso, gli Imoca 60, che costeggiano la costa francese. Insomma, questo è un Class 40. Hanno preso un po' in largo. New Rest, lo vedete, New Rest Pasquier, dove c'è Giancarlo Pedota in alto a destra. E in basso, invece, a sinistra, Enel Green Power, il piccolo Class 40 di Fantini e Bona, che riporta un sponsor importante, un brand importante italiano, Enel, nel mondo della vela. Speriamoci resti a lungo. Qui ancora un primo piano. Vedete quanta poca vela mettono su Gitana 17 di fronte a questi 18 nodi di vento. C'è da gestire la partenza, il traffico, le virate. E quindi probabilmente non si sono ancora lanciati nell'oceano aperto nella corsa. Pensate, nella prima notte, in sole 9 ore, Gitana 17 ha passato la manica. A una velocità media di 28 nodi con punte di 40 nodi di velocità. Questo invece è Imeris, il leader dei Class 40, con Phil Sharp e Pablo Santurde. Una coppia anglo-spagnola. Questo è Sma, un altro dei protagonisti degli Imoca 60. Paul Melià e Gnol Gainet. Questo invece è Malizia 2 dello Yacht Club del Monaco. Esordio in oceano per lo Yacht Club del Monaco. La barca dove c'è coinvolto anche Pierre Casiraghi, ma in questo caso c'è Boris Herman con Thomas Wayant. E poi ancora Bourreau Vallée, che è un altro dei classici. Louis Bourton, Servan Escoffier. Immagini di pubblico addirittura assiepato. Guardate sulle scogliere, in alto sulle scogliere. Ancora questo è Prince de Bretagne. L'ultimo, Lionel Le Monchois e Bernard Stam, l'ultimo degli ultimi. Initiative Coeur con Samantha Davis e Tanguy Delamotte. Tanti sponsor, sono sempre tantissimi di sponsor della vela oceanica francese, ma tanti sponsor si sono visti anche per iniziative di solidarità, iniziative benefiche. È un altro aspetto che sta prendendo sempre più piede nella vela oceanica francese e dalla quale, anche in questo caso, si potrebbe prendere spunto. L'amica Lynn, Arnard Bossiere e Manuel Cusin. E ancora un Imoka 60. Ancora vedete a destra New Rest, Pasquier con Giancarlo Pedote. Sono a metà classifica dopo la prima notte nella manica. Naturalmente class 40 e Imoka 60 vanno a velocità differenti. Ci sarà da divertirsi, ci sarà una lunga strada da fare. State ancora con Selle TV perché seguiremo naturalmente a lungo anche la Transat Jacques Babre.